Un antico raccontino cinese che tra l'altro è direttamente connesso con la spiritualità del Taoismo, ci parla di un episodio estremamente semplice ma anche molto profondo al tempo stesso. Ed è quello delle barche che si trovano ormeggiate lungo la riva di un fiume, come se fosse una sorta di porticciolo. Ognuna di queste barche è legata con una corta ad un palo in maniera tale che possano appunto rimanere lì ferme, ormeggiate, senza essere portate via dalla corrente del fiume. Soltanto che un giorno arriva un'enorme tempesta, fulmini, pioggia, vento e tutte le barche che sono qui ormeggiate vengono ovviamente distrutte dall'impeto di questa tempesta. Quello che rimane è soltanto qualche pezzo di legno attaccato a queste corde, a loro volta legate a questi pali. Quindi tutto va distrutto tranne una sola barca, che era una barca che si trovava lì nelle vicinanze e che però non era attaccata con nessuna corda a nessun palo. Questa barca infatti, che non aveva alcun ormeggio nel momento in cui arriva la tempesta, viene semplicemente portata via dall'impeto della corrente. Quindi questo fiume in piena, carico di pioggia, carico di vento, porta con sé questa barca senza ormeggi. La porta, la porta, la porta e la barca docilmente si lascia trasportare. Fintanto che, una volta che la tempesta è finita, in maniera molto calma e molto placida, la barca viene nuovamente, spontaneamente posata sull'argine di un fiume. Questo raccontino perché è così importante? Perché ci parla in maniera molto diretta del fatto che nelle situazioni estreme della nostra vita, se siamo in grado di affidarci alla corrente, di abbandonarci a questa corrente in maniera totalmente fiduciosa, senza rimanere aggrappati a quelle che sono le nostre corde e le nostre sicurezze, cosa accade? Accade che miracolosamente, prodigiosamente, questa stessa corrente che sembra, che sembra travolgerci, in realtà è la stessa che ci sposta per depositarci, qualche momento dopo, nel luogo migliore dove potremmo nuovamente, appunto, depositarci. Questo insegnamento, quindi con questa splendida, secondo me, immagine della barca priva di ormeggi, la barca totalmente affidata alla corrente, riguarda non solo i momenti estremi, i momenti veramente critici della nostra vita, quelli in cui noi abbiamo cercato di fare il possibile, per non dire anche l'impossibile, ma da un certo momento in poi vediamo che non c'è più niente da fare, quindi l'unica cosa da fare è appunto mollare, lasciare, esattamente come questa barca priva di ormeggi, ogni sicurezza, lasciarsi andare con gli eventi. Ma riguarda anche questo raccontino la nostra condotta normale di vita, non per forza in connessione con gli episodi estremi che possono accadere nella nostra esistenza. Condotta di vita normale significa imparare piano piano a muoverci come la barca senza ormeggi, avendo fiducia nella corrente e facendo in modo che sia questa stessa corrente ogni volta a guidarci dove ella, molto meglio di noi, sa dove portarci. La domanda che sorge spontanea è ovviamente quella di dire ma per quale motivo siamo degli esseri dotati di intelligenza, di volontà, determinazione, per quale motivo questo raccontino ci dice invece di lasciarci andare alla corrente? Ma semplicemente perché la corrente in sé è l'espressione la più diretta di una realtà di fondo che fondamentalmente è buona, che fondamentalmente vuole il nostro bene molto più di quello che noi stessi siamo in grado di procurarci da soli. Questa corrente, anche se nell'apparenza può sembrare tumultuosa, ci sposta dalle antiche abitudini per spaisarci e poi forse farci ritrovare un ambiente attorno a noi nuovamente familiare. È in realtà una corrente che non rema contro di noi, non è disinteressata al nostro destino, non è nichilisticamente contro gli esseri umani, ma al contrario è un qualcosa di più grande di noi che meglio di noi sa qual è il nostro bene e che quindi proprio meglio di noi sa come spostarci da un luogo ad un altro in maniera tale che possiamo realmente evolverci. Quello che noi stiamo dicendo qui a parole può essere sperimentato in maniera concreta a patto realmente di fare questo enorme atto di coraggio che è proprio quello di abbandonarci, l'abbandono, imparare in ogni gesto quotidiano come anche nelle situazioni più importanti della nostra vita, ad avere fiducia, la fiducia nel lasciarsi andare. Questo elemento che abbiamo illustrato attraverso questo raccontino, non a caso questo raccontino cinese, come dicevo all'inizio, è legato al mondo del taoismo e il taoismo è proprio questa filosofia, ma più che filosofia è una propria religione, è uno stile di vita, che ci parla del tao, che è questa sorta di legge universale, dinamica, e quando dico legge non c'è nulla di un'idea di coercitivo, di imposto, è una legge intrinseca che stava all'interno della dinamica dell'universo e della dinamica delle cose, che fa sì che al di là degli apparenti opposti che possono generarsi nell'universo, nelle cose, nella stessa nostra esistenza, tende ad armonizzare il tutto, tende a equilibrare costantemente le varie parti. Quindi il tao è questa potenza interna, intrinseca in tutto ciò che esiste, quindi presente anche in noi, se decidiamo di lasciare a questo stesso tao di agire per noi e all'interno di noi, che fa sì che al di là delle apparenze e delle apparenti contraddizioni e incongruenze, in realtà permanentemente lo scopo di questa energia consapevole e a suo modo grandemente intelligente è semplicemente quella di armonizzare in permanenza tutto ciò che esiste, fare in modo che si mantenga questo equilibrio in continuazione in tutto ciò che nell'universo esiste e sussiste. Sempre nell'ambito del taoismo qual è l'immagine forse più eloquente di questa attitudine di abbandono che permette all'uomo di allinearsi e di conformarsi alla legge del Tao? È quella della cedevolezza di un salice. L'immagine spesso quindi evocata è proprio quella dell'albero di salice che come voi tutti sapete è un albero molto elegante ma anche molto molto flessibile, molto docile. È un albero che si slancia verso l'alto ma che allo stesso tempo è come se disegnasse permanentemente con i suoi rami delle parabole che riscendono verso il basso. Ed è questo l'emblema proprio dell'albero del Tao nel senso che l'albero del salice nella stagione invernale quando ci sono le nevi imponenti e importanti cosa fa? Si lascia caricare completamente dal peso della neve, i rami si riempono di neve ma cedono via via che aumenta il peso cedono 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 fin tanto che a un certo momento la curva del ramo diventa tale che la neve scivola da sola, cade. E l'albero che ha saputo essere flessibile e che ha fatto della flessibilità la sua stessa natura ritorna alla sua posizione originaria. Quindi è un albero che a differenza di altri alberi forti, robusti, resistenti, coriacei, che sotto il carico della neve però vengono abbattuti proprio perché oppongono forza a forza il peso di gravità della neve alla potenza dei propri rami si spezzano. Invece il salice accetta il peso, si lascia andare e una volta che la neve è caduta dai suoi rami, quindi non c'è più questo peso, ritorna esattamente quello che era. In questo senso potremmo dire che il salice è un albero che non ha paura, è un albero che si lascia andare nella piena convinzione che tutto ciò che accade non potrà alla fine che essere di suo giuramento o comunque potrà accadere non con lo scopo di nuocerli. Questa immagine potentissima dell'abbandono fiducioso che ogni uomo è chiamato secondo me a compiere nella sua esistenza in generale ma soprattutto se è incamminato in un percorso di ricerca interiore autentica e intima. Lo ritroviamo un po' in tutte le filosofie, soprattutto in ambito asiatico. Lo troviamo ovviamente nell'Advaita Vedanta dove appunto l'immagine è quella del uniformare se stessi con l'ordine delle cose che va al di là di noi stessi. Fare sì che spontaneamente si crei questa armonia e questa stessa unione che da sempre esiste tra l'Atman, quindi tra l'anima individuale e il Brahman e quindi la dimensione universale delle cose. Un allineamento e un'unione che può essere compiuta unicamente se accettiamo di rinunciare al nostro piccolo io per partecipare a questa dimensione ben più ampia che è assolutamente infinita che appunto quella del Brahman. Lo troviamo ad esempio nelle religioni tibetane, soprattutto nella filosofia dello Zocen, ovvero il cammino della grande perfezione, che ha come fondamento di base una nozione molto semplice. Tutto ciò che esiste è già spontaneamente perfetto. Tutto ciò che accade, anche in questo singolo istante in cui io sto parlando e voi state ascoltando, è perfetto, è compiuto in se stesso. Quindi da parte nostra per poter entrare in contatto diretto, per fonderci a questa perfezione che già esiste in tutto ciò che appare e si manifesta nel cosmo, non c'è altro da fare se non lasciare tutto esattamente così come è. Non compiere uno sforzo, non agire secondo volontà, ma semplicemente conformarci pienamente a ciò che è, semplicemente rinunciando a ciò che noi, al contrario, in ogni istante, in maniera ostinata cerchiamo di affermare contro la realtà delle cose, modificando la realtà delle cose, attaccandoci alla realtà delle cose e modificandola in permanenza secondo le nostre proiezioni profonde, individuali. questa stessa filosofia dell'abbandono è presente, secondo me rappresenta veramente uno dei cardini fondamentali dello stesso cristianesimo, questo affidarsi completo dell'uomo nelle mani del divino, che già trovava in ambito evangelico delle immagini ricche e potentissime, come quella di quando Cristo parlava del Giglio, della bellezza del fiore, del Giglio, che dice è un fiore che oggi esiste, domani i contadini lo tagliano per poi bruciarlo, che nella sua semplicità, nella sua spontaneità è milioni di volte più bello del più bello degli abiti del re Salomone. È la stessa immagine che troviamo nell'invito che fa Cristo appunto a lasciarsi andare e affidarsi alla provvidenza, dal momento che se Dio si prende cura degli uccelli e delle piccole creature che popolano il cosmo, quanto più si prenderà cura degli esseri umani che valgono ancora di più di qualsiasi piccolo animale che abita il nostro mondo. Si tratta quindi di un qualcosa di universale che interpella e che interpella in maniera trasversale, poco importa quale sia la tradizione, poco importa quale sia la latitudine, poco importa quale sia la civiltà spirituale che ha sottolineato e coltivato proprio questo valore importantissimo dell'abbandono. Abbiamo parlato di barche, abbiamo parlato di corde, abbiamo parlato dell'atto coraggioso di mollare gli ormeggi e di affidarsi alla corrente. Prima di concludere vorrei portare un'altra immagine che ci tiene sempre vicini a questo mondo liquido, ma il mondo liquido d'altra parte è il mondo marino, è il mondo della fluidità, è il mondo dell'accettazione, è il mondo della flessibilità. Ed è sempre un'immagine che riguarda appunto il mondo liquido, il mare, e che ci riporta ancora una volta questa idea di fiducioso abbandono. Ed è l'immagine di noi, quante volte ci è capitato andando al mare, quando il mare è calmo, è tranquillo e la temperatura è ovviamente piacevole, di notare poi a un certo punto di fermarci, soprattutto quando siamo più o meno soli, non abbiamo persone attorno, e pian piano distenderci sulla superficie del mare, facendo quello che viene appunto chiamato di sotto fare il morto. E l'abbiamo visto, fare il morto significa abbandonarsi al fatto che l'acqua ci sostiene, senza che noi stiamo compiendo uno sforzo. E paradossalmente più noi siamo rilassati, più noi ci fidiamo che il mare ci sostiene, tanto più il mare ci fa galleggiare. E anzi è proprio nel momento in cui noi ci irrigidiamo, che sentiamo che le gambe tornano ad andare a fondo, che qualcosa non va più, e che il corpo quindi è costretto a riprendere una posizione verticale, noi dobbiamo ricominciare a notare. Ma fin tanto che noi ci riusciamo a lasciare andare fiduciosamente, magari con gli occhi aperti, contemplando il cielo blu sopra di noi, tanto più sentiamo che c'è un'armonia, che non c'è bisogno di noi, che non c'è bisogno del nostro sforzo, perché qualcosa di potente, di buono, qualcosa quindi che dalla nostra parte non è contro di noi, ci sta a tutti gli effetti, sostenendo e pienamente prendendo cura di noi. Ovviamente questo è un insegnamento che per noi può essere ben disorientante, soprattutto per noi che siamo abituati in permanenza ad affermarci, a resistere in ogni momento della giornata, in ogni attività, in ogni rapporto con gli altri, abituati a contrastare, soprattutto incitati oramai da secoli e secoli e secoli a vedere la vita come una competizione, l'interesistenza come una lotta per la sopravvivenza. Sto ringraziando ovviamente questa perversa filosofia che è quella dell'evoluzionismo, che ritiene che la vita umana sulla Terra sia essenzialmente una notta, una sopraffazione in cui vince il più forte e che quindi, portata in ogni micro momento della nostra giornata e della nostra esistenza, significa semplicemente che noi siamo costantemente invitati a malmenare e calpestare gli altri in modo tale che non siano gli altri a malmenare e a calpestare noi stessi. Beh, ciò nonostante questa nostra attitudine ormai inveterata, la proposta che ci fanno queste antichissime filosofie invece di mollare gli ormeggi e di lasciare andare, è veramente un invito a lasciare andare il nostro piccolo ego. Quindi c'è qualcosa di molto più profondo al di là del far carriera, del difendere la nostra famiglia, del mantenere il posto di lavoro. Ci interpella a un livello molto più profondo, è quello appunto di cercare di far morire, di trascendere il nostro piccolo io con tutti i suoi progetti, con tutte le sue paure, con tutto il bisogno che ha permanentemente di rassicurarsi, di difendersi, al punto tale che questa attitudine diventa un'attitudine nevrotica, che non ci abbandona neppure nel momento in cui ci andiamo a addormentare, non ci abbandona neppure nei sogni che riproducono spesso in maniera identica, più o meno gli stessi schemi, gli stessi panorami, le stesse dinamiche relazionali che già viviamo durante la giornata. Quindi rinunciare a questo piccolo ego, lasciare che si dissolva, così da poter passare dal piccolo io, dal piccolo cerchio della nostra vita, al grande cerchio, o meglio al più grande dei cerchi esistenti, che è quello in cui il centro di questa infinita sfera si trova in ogni luogo e la circonferenza stessa di questa sfera non si trova da nessuna parte. Perché? Perché quando siamo in questo cerchio non esiste più un io e un altro, un io e un tu, ma tutto assume il potentissimo e il semplicissimo sapore dell'infinito. Grazie a tutti.